Io continuo a fare quello che stiamo facendo al primo momento, cioè lavorare, lavorare, lavorare perché l'università è un altro obiettivo che la città non può mancare. Siamo gli unici che stiamo rispettando tutto il cronoprogramma, ci eravamo preoccupati quando l'Aru, l'agenzia regionale, era immobile e non faceva passi in avanti, abbiamo preso atto che il governo precedente ritenne di nominare un commissario perché l'Aru non andava bene, il prefetto Latella secondo noi ha fatto un buon lavoro, prendiamo atto che a un certo punto il governo elimina il commissario Latella e ritorna all'Aru che finora nulla aveva fatto. Da uomo che ha sempre fiducia, abbiamo parlato di Etellandia adesso, mi auguro e daremo tutto il sostegno istituzionale possibile affinché l'Aru faccia quello che sinora non ha fatto. Il comune darà il massimo di sostegno per la città di Napoli, esprimiamo rammarico per le dichiarazioni del governo perché credo che per un'iniziativa di livello nazionale, europeo e mediterraneo così grande, assumere un atteggiamento un po' pilatesco e mettersi di lato indietro non è una bella immagine per il governo anche nei confronti della FISU. Diciamo che se non ci fosse stata la nostra determinazione, che lo stesso Giorgetti ci ha riconosciuto dicendo che è la passione che prevale pur la ragione, sulla ragione non ci sarebbe stato questo evento. Sbaglia Giorgetti quando dice che erano favorevoli al rinvio perché l'ipotesi di rinvio è stata subito ritenuta impossibile dalla FISU, le università di Ossifacevano venivano annullate. Quindi oggi se siamo ancora in corsa per una competizione sportiva di così elevato livello è grazie alla città di Napoli. Noi fino all'ultimo minuto daremo il massimo di contributo all'Aru, a tutte le istituzioni, nella speranza che anche le istituzioni nazionali non si facciano da parte perché Napoli e la Campania fanno parte dell'Italia, l'università di un grande evento, mentre altri rinunciavano alle Olimpiadi noi abbiamo creduto alle università di e credo che il governo non si possa sfilare. Se invece questo sfilare significa dare forza agli enti locali questo può essere anche un fatto positivo, speriamo che chi finora non è stato all'altezza lo sia veramente. Vediamo quali saranno le proposte per il villaggio, navi e le cose che già sapete. Per il resto noi possiamo dire che stiamo aggiudicando tutte le gare per gli impianti sportivi, il primo agosto vediamo anche dell'Aurentis, quindi tutto quello che dovevamo fare lo stiamo facendo, Napoli si farà trovare pronta nonostante anche le inerzie, gli errori, gli sbagli e le cose poco chiare fatte da altre istituzioni. Secondo lei vogliono lasciare a voi anche la responsabilità di un possibile fallimento, pensano che fallirà questo evento? Non perché siete sempre così pessimisti, l'evento non fallirà, certo se avessimo avuto al nostro fianco anche il governo nazionale sarebbe stato l'oddetto positivo, ma tutto sommato più ci fanno soffrire noi più ci carichiamo, ci auguriamo che la regione sia all'altezza perché finora l'Aru non lo è stato, adesso hanno poteri maggiori, se lo sarà noi daremo tutto il contributo necessario. Ma il 5 Stelle lasciamo solo il Sud per avendo preso qui una volta il partito? E questo lo dovete chiedere al 5 Stelle, quando parlo di governo con atteggiamento in qualche modo pilatesco non mi ferisco a Tizio Accaio, il governo mi pare che è composto da una maggioranza di due forze politiche, una si chiama Movimento 5 Stelle, l'altra si chiama Noi con Salvini o meglio nota come Lega Nord o meglio nota come Indipendenza per la Patania, questo mi pare che è la compagine che guida il governo a trazione nordista.